Dobbiamo evitare un'ulteriore crisi di Pietro Modeo Gli eventi di quest'anno ci insegnano quanto sia fragile l'economia globalizzata che è stata costruita negli ultimi 50 anni. Poche settimane di arresto della produzione hanno mandato in crisi il sistema creato e controllato dai paesi più industrializzati, che all'inizio erano 6, poi 8, oggi forse 20, una crisi dalla quale è al momento impossibile comprendere come si debba uscire. In questo momento molti rappresentanti delle forze politiche e produttive si agitano per ristabilire la situazione che si è bruscamente spezzata, senza indagare sulle cause remote della crisi. Alcune di queste cause erano nella consapevolezza di molti e sono state più volte denunciate. Altre cause sono subentrate nella distrazione generale. Ricostruire il più rapidamente possibile il fragile ordine precedente non può che portare subito ad un'ulteriore crisi, assai più grave di quella che stiamo soffrendo. I beni di cui ogni individuo deve disporre, acqua, cibo, informazione, sicurezza, comunicazioni, tutti i beni tradizionalmente affidati alle comunità periferiche o centrali di ogni Stato, sono stati sottratti ai loro gestori naturali con la falsa accusa che venivano compiuti sprechi inaccettabili. E così mercati, acquedotti, strade, poste e ferrovie sono passati in mano a speculatori privati o istituzioni non controllabili e non controllate, quali sono le multinazionali, irrispettosi di qualunque norma etica, come il rispetto dell'ambiente, una equa retribuzione del lavoro, l'uso delle coltivazioni per nutrire la gente e non per approvvigionare i produttori di carburanti, e così via. Insisto, i servizi gestiti dalle comunità periferiche, quali la nutrizione, le cure sanitarie, le comunicazioni, sono stati sottratti ai comuni medianti la privatizzazione e dati in mano ai privati o alle multinazionali il cui compito è quello di arricchire agli azionisti. La maggiore offesa da parte dell'attuale sistema dei grandi paesi industrializzati è quella che si compie sul lavoro, il primo diritto e dovere riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Il lavoro viene largito dall'industria a condizione che ciascuno divenga un consumatore, l'alternativa è quella di esuberato, condizione che può essere imposta fin dalla nascita. Quindi, alla domanda esistenziale, che campi a fare? La risposta è per contemplare il lavoro altrui e delle macchine, e se proprio vuoi fare qualcosa che simula il lavoro, fallo pure, a patto di non disturbare i traffici che arricchiscono i privilegiati. La società deve far lavorare tutti, non per arricchire le industrie e chi le possiede, ma per favorire il bene comune, dalla gioventù fino a quando ogni individuo può contribuire, anche in minima misura, a questo scopo. Non deve creare innumerevoli ghetti dove vengono accantonati gli anziani e gli esuberati, bensì dare lavoro per il recupero e la protezione dell'ambiente che ci dà vita. Ogni individuo deve rifiutare il ruolo di consumatore di cose superflue, prodotte con materiali sottratti alle poche risorse disponibili in un pianeta già sfruttato oltre il sostenibile. La condizione di esuberato interessa più della metà della popolazione umana, priva della possibilità di agire per il bene o per il male ma in attesa di sparire per alleggerire l'economia, un'immensa moltitudine immobilizzata davanti ai televisori a subire la propaganda del superfluo. In un quadro ambientale che era già estremamente compromesso, l'evento che si è prodotto in Siberia il 29 maggio 2020 avverte la necessità di incrementare potentemente la capacità di reazione dell'umanità. Un'informazione adeguata e intransigente è necessaria per far assurgere il problema di salvarsi, a priorità in grado di surclassare qualunque altro argomento, giungendo ad accantonare ogni interesse privato a favore della collettività. Noi stiamo esagerando, abbiamo esagerato, noi intendo dire come umanità nel suo complesso, questo dicendo per termini molto molto semplici, che stiamo a rischio, non solo a rischio, molte specie viventi, ma siamo a rischio anche noi. Allora io direi che l'intervento di Pietro che ha toccato degli argomenti di una complessità e che non so neanche come ha fatto in quattro minuti, tra le varie cose che ci dice è che non possiamo delegare, perché la situazione delle scelte strategiche è troppo in mano a tutto il quadro che ha descritto lui. Però è anche vero che i giornalisti non hanno secondo me, lo dico da giornalista, anche se è il mio terzo lavoro, perché in realtà sono un'architetta, eccetera. Però io sono anche una pubblicista, quindi devo fare i corsi di aggiornamento e non trovo una formazione adeguata sul piano ambientale, per esempio, come non la trovo sul piano di genere. Penso che tutti siamo d'accordo che sia necessario attivarsi un po' dal basso, elevare l'informazione, ma anche per fare una bella, una chiamata ai giornalisti, perché loro stessi si impegnano, più non costano. Detto questo, l'evento che segue è del professore Antonello Pasini, che è un fisico del clima del CNR.